Un monitoraggio sul gradimento e sull'organizzazione dei servizi nei centri per l'impiego della città metropolitana di Firenze è svolto in collaborazione con la Regione Toscana. È quanto fatto presso vari centri per l'impiego del territorio metropolitano fiorentino a partire da quelli cittadini fino ai centri di Borgo San Lorenzo, Figline Incisa Valdarno, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Empoli e Castelfiorentino. La città metropolitana, ente che coordina i servizi per l'impiego per le imprese e i cittadini, grazie a questo rilevamento intende rivedere gli strumenti e le modalità dei propri servizi per l'impiego con la finalità di offrire aziende e cittadinanza un pacchetto sempre migliore di attività. Il monitoraggio è diviso in due branche, una destinata alle imprese e l'altra per i cittadini. Per quanto riguarda le aziende si tende a rilevare anche quanto siano sfruttati i servizi del centro per l'impiego, anche quelli online, e quanto per esempio quelli delle agenzie per il lavoro, ex agenzie interinali, delle associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e non solo. Col questionario destinato ai cittadini si cerca di comprendere anche chi è che si rivolge maggiormente al centro per l'impiego attraverso domande specifiche anche di tipo curricolare. Inoltre attraverso entrambi i questionari è possibile esprimere i propri gradi di soddisfazione dei servizi così che la città metropolitana possa andare ad intervenire laddove ce ne sia bisogno.